Buongiorno ragazzi e benvenuti, oggi stiamo andando a vedere la presentazione della macchina per quest'anno macchina da gara, da gara vediamo un po' come è venuta, mancherà una cosa che so già che arriverà verso metà aprile quindi ci sarà per le prossime tappe poi magari scopriremo qualcosina del campionato del 2022 perché volevo portarvi con me quest'anno anzi, colgo l'occasione, se volete sapere qualcosa di come funzionano le gare e quant'altro scrivete nei commenti così almeno possiamo anche valutare qualche video più specifico a riguardo eccoli, il capo e il vice capo buongiorno 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 eccoci qua che dire grazie agli amici di ATS e a Borgomanero per la macchina che hanno creato perché l'hanno cambiata radicalmente la macchina è stupenda adesso faremo le ultime modifiche si entra in gara questo fine settimana il 2-3 aprile a Varano dei Melegari quest'anno faremo il campionato italiano in Formula 1 quindi inizieremo da Varano fino ad arrivare al Grand Final in Monza mi servirà sicuramente il vostro aiuto quindi iscrivetevi e mettete mi piace per riuscire a condividere a più persone questa splendida categoria adesso non ci resta che lavorare oggi faremo le pese giusto per mettere in bilancia tutto e dopo di che gas e si inizia il campionato a presto